Con il derby contro la Gelbison, l'imperativo per la Cavese è dimenticare in fretta la batossa contro la Vibonese. Il tecnico Chietti, nell'amichevole disputata ieri con l'Angri, ha provato la formazione che dovrà affrontare i cilentani. Senza gli squalificati Esposito e Lordi e con Giordano ancora fuori causa, Chietti sembra intenzionato a riproporre il 4-3-3 con l'arretramento di Temponi sulla linea di difesa al fianco del rientrante Manzi. L'ultimo acquisto Antuoni a Vibo ha messo in evidenza una scarsa tenuta atletica e domenica inevitabilmente comincerà la gara dalla panchina. In mediana si registrano i rientri a pieno regime di Borsa e Zolfo, con quest'ultimo che potrebbe ritornare titolare al fianco di Rinaldi e del rispolverato Marrandino. Il giovane centrocampista infatti potrebbe essere la sorpresa non avendo disputato neanche un minuto con l'avvento di Chietti. annual derby. Grazie. 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 Grazie.